Ha fatto al giro del web la notizia del furto dell'abito che Lupita Nyong'o ha indossato in occasione della notte di Oscar. Un vestito bianco, lungo e ricco di perle, filmato Calvin Klein, del valore di circa 150.000 dollari. Una storia degna di un film che il sito americano TMZ ha eseguito sin dall'inizio, finendo per essere poi direttamente contattato dall'administrazione, che ha indicato alla redazione dove poter trovare il vestito a quanto pare finito. Ebbene sì, l'autore del furto non è infatti rimasto soddisfatto dell'abito, di cui era riuscito a impossessarsi entrando nella stanza di hotel dell'attrice, e gettando il vestito dal balcone affinché un complice potesse appropriarselo. Dopo aver tolto dall'abito due perle, i ladri hanno provato a venderle a Los Angeles, ma è stato detto loro che fossero falsi. Da qui la decisione dei delinquenti di restituire il vestito, contattando appunto la redazione del famoso sito. Nella bizzarra vicenda si è inserito anche lo staff di Calvin Klein, attraverso il direttore creativo del reparto femminile, Francisco Costa. Qualcuno di Calvin Klein ha mai detto che le perle fossero vere? Ha dichiarato lo stilista. Ho sempre dato per scontato che tutti sapessero che fossero fitte. Ma a quanto pare non era così. C'è ancora qualcuno che mette sui vestiti gioia livelli da quando Cleopatra è morta? Sì Sì Grazie a tutti.